ragazzi prendiamo l'autobus oggi andiamo a fattorino a visitare il museo gistio di torino eccolo la dai saliamo siamo arrivati all'ingresso del museo cosa facciamo compriamo biglietti certo dai compriamo e signore chi vuole il biglietti no possiamo quanti sono tre o quanti sono loro due o tre due o tre sì quanti sono c'è scimmie e poi chi c'è c'è orso orso e c'è papagallino papagallino allora tre biglietti ok grazie si paga con buongiorno andiamo a vedere la storia tra sfing certamente andiamo ragazzi oh scusa piacere di conoscervi io sono la scimmia marrone andiamo oh che bello che bello sfing hanno il corpo il leone il re Ransus 2 era il re di Gito sai ragazzi c'è piramide andiamo ciao io sono la regina ho visto la statua la storia di regina di Cleopatra dai andate a casa ciao ciao sai regina voglio tanto bene a me? sì ragazzi dove sei andato? sono andato al museo egizio sei andato al museo egizio zio dai dai oh voglio venire con me al museo egizio voglio venire con me lo so andiamo oh sì certo ciao ciao ciao